Una mossa poco scaltra ha incastrato un postino della provincia di Torino. Si tratta di un 44enne di Mazzè che mercoledì scorso ha chiamato i carabinieri di Montanaro per un sopralluogo in seguito a un probabile furto, ma le forze dell'ordine hanno scoperto ben di più. Durante i controlli, infatti, i militari si sono accorti che l'uomo in cantina aveva allestito una coltivazione casalinga di marijuana. Sono perciò state sequestrate 9 piante di marijuana coltivate in vasi, 228 grammi di foglie sminuzzate di marijuana, 18 grammi di hashish, un bilancino e un armadio in alluminio con diverse lampade all'interno per l'essiccazione delle foglie. Insomma, una vera e propria piccola serra con produzione di droga. Il 44enne è stato quindi arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo è già stato condannato a 8 mesi di detenzione e al pagamento di 1000 euro.